Ragazzi oggi vediamo i what meme dove raga cioè se unisciamo se mettiamo due zombie faranno un figlio raga Togliamo il video Allora vediamo dove sta facendo il video Cosa? Non ci credo Allora Cosa? 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 Ciao Sì, non ci vanno. Scusate! Cosa? I co? Scusate! Weiss, vismi era più vero. No, non, 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 non. No, non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hanno fatto un figlio! Non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio. Hanno fatto un figlio. Devo partire per un viaggio. Ti hanno arruonato. Tornerò, Miuri. Troppo difficile. Non ci voglio, non ci voglio. Non ci voglio. E' un po' di mea. E' un po' di mea. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Vai, è morto. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì.